Marco, io prima dove ero? Là E adesso dove sono? Qua Qua Te dov'è che sei? Qua Ciao, ma stupido, ma che scherzi mi fai? Ma sei impazzito? Ma stai se l'ha capita quella? Lascia perdere Ci scusiamo per il ritardo del nostro intervento Buonasera, ci fanno una foto, mettiti in posa naturale Grazie Ci scusiamo per il ritardo del nostro intervento, avremmo dovuto aprire noi la serata Purtroppo abbiamo avuto un problema logistico, la colpa è del mio socio Che purtroppo è così, ce l'abbiamo così e ce lo teniamo Grazie a tutti